Se io lavoro per il pianeta, pensate di me meglio. Più miliardi della gente ci vive sopra, quindi dobbiamo pensare alla gente, al loro benessere. Tutto va per il popolo. Chi adesso sta studiando in questa università prevede un futuro migliore. Tenete questo in mente, i giovani che adesso per esempio vivono in Africa, può essere che il loro futuro non sia così bello.